Ben trovati, nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it, stiamo creando un semplice sottopancia animato in After Effects, stiamo mettendo in pratica quello che abbiamo imparato nella prima parte di questo corso introduttivo, quindi abbiamo utilizzato il testo, abbiamo inserito dei livelli forma, li abbiamo colorati, posizionati e in questa lezione, in questo video tutorial, impareremo ad animare. Abbiamo già visto come si anima in realtà, ma lo mettiamo in pratica per vedere l'utilità dell'animazione in tutta la sua potenza. Bene, abbiamo visto che per animare un testo o per animare un qualunque livello del nostro lavoro qui in After Effects, dobbiamo ovviamente selezionare il livello che vogliamo animare, espandere le proprietà, scegliere la proprietà per esempio posizione, cambiare il valore della posizione e vedete che il box per esempio del nome e cognome viene spostato. Inserendo il keyframe ovviamente faremo muovere questo elemento. Ovviamente io ricordo tasto di scelta rapida P sulla tastiera per isolare solo il parametro della posizione, faremo la stessa cosa poi con il box della qualifica e tutto quanto, ma c'è un problema. Ecco, io voglio animare il box che ospita il nome e cognome contemporaneamente al nome e cognome stesso. Io sto animando, sì, sto muovendo questo box, ma la scritta, vedete, resta lì ferma. Come fare per non perdere tempo? Sì, potrei fare la stessa cosa contemporaneamente su più livelli, però per fare prima io posso linkare, collegare il testo Fabio Ambrosi, quindi nome e cognome, direttamente al box che lo ospita. In altre parole posso fare in modo che la scritta Fabio Ambrosi sia figlia di un genitore e il genitore è il box nome. Ok? Come si fa questa operazione? Lo state già vedendo in realtà. Sulla destra, nel nostro pannello dei livelli, c'è una colonnina che ci permette di collegare i singoli livelli tra di loro. Posso agire in due modi, o clicco sul menu a tendina e scelgo il livello genitore, in questo caso box nome, per il nome e cognome, quindi per Fabio Ambrosi, oppure posso prendere questo lazzo che è vicino alla tendina e trascinarlo sul livello che voglio rendere genitore, quindi in questo caso box nome. Accade la stessa cosa, quindi a voi la scelta. Fatta questa operazione, come potete vedere, quando muovo il box del nome, muovo anche la scritta che è adesso collegata. Ok, facciamo la stessa cosa con la qualifica, quindi la scritta Editor, che sarà poi la nostra qualifica, la linko, la collego al box della qualifica. In questo modo, quando vado a modificare la posizione del box della qualifica, muovo anche il testo che viene ospitato. Fantastico, in questo modo mi devo preoccupare di animare solo questi due livelli, posso dimenticarmi completamente delle scritte. Ok? Come si anima? Abbiamo già spiegato che tutti i parametri che hanno vicino un cronometro sono parametri che sono animabili, quindi la posizione è un parametro che può essere animata. Mi posiziono alla fine della mia animazione, perché io voglio che la mia animazione finisca in questo modo, esattamente così. Quindi mi posiziono al fotogramma che voglio sia il mio fotogramma finale della mia animazione, quindi a due secondi, e accendo lo stopwatch, il cronometro. In questo modo viene inserito un fotogramma sia sul box del nome sia sul box della qualifica. Torno indietro di mezzo secondo, di 12 frame circa, e a questo punto basta muovere. Muoviamo per esempio il box editor in basso e muoviamo la scritta, o meglio il box che ospita la scritta nome e cognome, quindi Fabio Ambrosi, verso sinistra. Vedete che After Effects crea un'illustrazione, una linea simbolica per indicarci che c'è un movimento da destra verso sinistra. Se io torno indietro in timeline e premo il tasto spazio, barra spaziatrice, vedete che l'animazione viene creata. I keyframe sono a loro posto, ovviamente posso selezionarli e muoverli un pochettino in maniera da sfasare l'animazione, quindi prima entra il nome e cognome e poco dopo entra anche la scritta editor. Ricordo che più i fotogrammi sono vicini più l'animazione sarà veloce, viceversa, più i fotogrammi sono distanti più l'animazione sarà lenta e lunga, tediosa. Ecco qua, scegliete voi in base al vostro gusto e dobbiamo fare adesso la stessa cosa ma in ordine inverso alla fine, perché se qui le scritte sono entrate, infine alla fine della composizione le scritte devono uscire. Come fare per fare la stessa cosa rapidamente? Sì, posso inserire dei fotogrammi chiave qui, con questi tastini qui vedete, inserisco dei fotogrammi chiave, andare un pochettino avanti e fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi far uscire il nome e cognome sulla sinistra e fare uscire la scritta editor in basso. Ho inserito il fotogramma, ecco qua. Perché ho dovuto inserire nuovamente un fotogramma chiave? Perché chiaramente se io non avessi inserito il primo fotogramma e avessi semplicemente mosso la scritta, sì sarebbe stato inserito un fotogramma, ma After Effects avrebbe inteso l'animazione a partire da questo fotogramma, quindi da qui in poi, ecco, la scritta sarebbe iniziata a scendere piano piano ed è una cosa che noi non vogliamo. Quindi per fare in modo che la scritta resti ferma e immobile fino alla fine, devo aggiungere un fotogramma chiave senza muovere nulla e vado un pochettino avanti, a questo punto muovo e ottengo l'animazione che volevo. Ma c'è un modo più veloce per fare la stessa cosa, senza sbagliare, che consiste nel copiare questi fotogrammi, ok? Li copio così come sono, quindi li seleziono, prima iniziamo dal livello del nome e cognome, quindi li seleziono, CTRL-C per copiare, CTRL-V per incollare, eccoli qui che sono stati incollati, ma c'è un problema, il problema è che hanno esattamente l'ordine che avevamo dato all'inizio, quindi il sottopancia entra e anche qui il sottopancia entra, io voglio invece che qui esca. Notate quello che dicevo, da questo punto in poi a questo punto in poi il sottopancia piano piano riesce, ma non è quello che vogliamo, vogliamo invertire i due keyframe, in maniera tale che il primo keyframe indichi ad after effect che la scritta sia esattamente in questa posizione. Come fare? Seleziono i due keyframe, tasto destro sopra un keyframe, assistente fotogrammi chiave, fotchiave in ord temp inv, una scritta abbreviata per indicarci che questa funzione ci permette di invertire l'ordine dei fotogrammi. Ci clicchiamo sopra e vedete che l'ordine dei fotogrammi è stato invertito, quello che era a destra ora è andato a sinistra e viceversa, e abbiamo ottenuto l'effetto che volevamo, quindi da questo punto della timeline fino a questo punto tutto resta fermo, da questo punto in poi la scritta esce. Facciamo la stessa cosa con l'altro livello, quello della qualifica, quindi selezione i due fotogrammi chiave animati nella lezione precedente, ctrl c per copiarli, ctrl v per incollarli, invertiamo l'ordine ovviamente, quindi seleziono i due fotogrammi chiave, tasto destro sopra uno dei due fotogrammi chiave, assistente fotogrammi chiave, fotchiave in ord temp inv, molto divertente questa cosa, ho invertito l'ordine e abbiamo ottenuto esattamente l'animazione che stavamo cercando. Fantastico, non abbiamo utilizzato minimamente le maschere di livello, ma nella prossima lezione, nel prossimo video tutorial, creeremo un'animazione identica a questa, forse leggermente diversa, utilizzando però le maschere di livello, mostrandovi come utilizzando bene le maschere di livello si possono ottenere anche effetti molto più complessi di quello che stiamo vedendo qui. Vi ricordo www.fabioambrosi.it, ci sono gli articoli di questo corso ma c'è anche l'indice con tutte le lezioni, ci sono anche articoli vari dedicati al mondo dello streaming e tante altre cosine. Fate una campatina sul sito, iscrivetevi a questo canale YouTube, stiamo facendo dei video tutorial live, quindi per non perderli iscrivetevi e accendete le notifiche, mi raccomando, e se vi fa piacere cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi, mettete un like e teniamoci in contatto. Al prossimo video tutorial, ciao!